mentre mi sto lavando tutte le persone nel come cazzo si chiama nel luogo nel luogo qui devono subito evacuare da tutte le uscite uscite di sicurezza e tutto quanto siete pregati di uscire siete pregati tutti quanti di uscire e io tutto nudo mi affaccio però vedo che tutti nessuno si preoccupava allora ho detto vabbè mi affretto un po' siete pregati di uscire siete pregati di uscire bisogna evacuare allora mi lavo in fretta continuo ciao Simald vado via così sì